L'Ateneo dell'Aquila piange Adi Zaitar, lo studente internazionale di ingegneria civile, scritto al secondo anno della laurea magistrale, morto nei bombardamenti della città libanese di Baalbek, nell'est del paese, a causa dell'intensificarsi degli scontri tra Israele e Zbollah. Il rettore Edoard Alesse e la comunità accademica oggi piangono questo giovane di 25 anni così sfortunato. Adi studiava all'Aquila, era tornato in Libano alla fine del secondo semestre per far visita alla famiglia. Sarebbe dovuto tornare tra qualche giorno per riprendere le lezioni. Era un ragazzo ben voluto da tutti, perfettamente inserito nella comunità accademica e nella vita cittadina. Adi è morto a casa sua, con lui sono stati uccisi dalle bombe anche la madre, il padre e due dei suoi fratelli. L'unico rimasto in vita è Ahmed, unico superstito della sua famiglia appunto. La comunità Aquilano e l'Ateneo si uniscono agli appelli della comunità internazionale affinché accessino immediatamente in Medio Oriente tutte le operazioni militari e si torni il prima possibile a percorrere la via del dialogo e delle soluzioni diplomatiche. L'aveva veramente apprezzato da tutti, aveva stretta amicizia con tutti, sia con noi della comunità aquilana sia con tutti gli altri studenti internazionali e veramente era un ragazzo pieno di sogni, di ambizioni. Era venuto all'Aquila per studiare, stava per iniziare il secondo anno di ingegneria civile e non è facile da Libano comunque riuscire a trovare una strada per venire a studiare in Italia, lui ce l'aveva fatta. Sarebbe dovuto tornare tra una settimana, però purtroppo non è più possibile. Ecco, voi vi unite come associazione agli appelli che ci sono stati, sindaco, rettore, affinché cessi insomma tutto questo. Adi tra l'altro ha avuto la sua famiglia, si può dire così, sterminata tranne uno dei fratelli. Sì esatto, noi ci andiamo all'appello internazionale ormai di far cessare queste guerre che portano solamente ulteriore violenza e crudeltà. Purtroppo quello che è successo ad Adi deve essere testimonianza di quello che può succedere a qualunque famiglia libanese o del Medio Oriente in generale e veramente a rimetterci in queste guerre sono sempre le persone indifese, i civili che non hanno nessuna colpa. Anche il sindaco Pierluigi Biondi ha espresso il suo cordoglio. La comunità di Balbek è gemellata con l'Aquila, fu ospite del capoluogo qualche anno fa per la perdonanza.